Il 27 ottobre 2013 si vota per il rinnovo del Consiglio Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano. Le urne sono aperte solo domenica 27 ottobre fino alle ore 22. Sono chiamati a votare i cittadini che al 27 ottobre 2013 abbiano compiuto 18 anni e che siano iscritti nelle liste elettorali. I cittadini residenti in regione da 4 anni, di cui la maggior parte in Alto Adige. Nella scheda consegnata all'elettore sono riprodotti i simboli di tutte le liste ammesse. Il voto viene espresso barrando il simbolo della lista prescelta. L'elettore può indicare da una a quattro preferenze scrivendo il cognome dei candidati e se necessario anche il nome. In alternativa può indicare il numero con cui i candidati sono contrassegnati nella lista. Le preferenze devono riferirsi solo ai candidati della lista votata. Le liste presenti sulla scheda elettorale sono Comunisti italiani, Unitalia, Südtiroler Volkspartei, Rifondazione Partito Comunista, Südtiroler Freiheit, Verdi Cell, Scelta Civica, Forza Alto Adige Lega Nord, L'Alto Adige nel Cuore, La Destra Minniti, Partito Democratico, Die Freiheitlichen, Ladins Dolomites, Bürgerunion Pöder, Wir Südtiroler, Movimento 5 Stelle. I cittadini devono presentarsi alla sezione elettorale indicata nella tessera elettorale con la tessera stessa ed un documento di riconoscimento valido. Hai smarito la tessera elettorale? Per ottenere un duplicato i cittadini devono rivolgersi agli uffici elettorali comunali che rimangono aperti anche domenica 27 per tutta la durata delle votazioni. Tutte le informazioni sulle elezioni provinciali 2013 e sui risultati dello spoglio dei voti sono disponibili sia sul sito internet della rete civica all'indirizzo elezioni.provincia.bz.it, sia su Facebook, sia su Twitter.